Negli ultimi giorni in tantissimi sui social si stanno chiedendo dove è stata presa la collana del nostro top G italiano Mastro che è uscito su Netflix con la nuova serie Summer Job e in tantissimi nei commenti gli hanno fatto i complimenti sulla collana e gli hanno chiesto dove l'aveva acquistata. Ragazzi, secondo voi, da chi l'ha acquistata se non dal miglior gioielliere d'Italia? Questo è lo stampo che era stato creato all'incirca un anno e mezzo fa per Mastro con il ciondolo Bitcoin Dopodiché siamo andati a fondere all'interno, a mettere il metallo e poi dopo tutta la lavorazione Adesso vi faccio vedere di seguito tutte le foto delle varie procedure e anche ovviamente che ce l'ha indosso il top G italiano Andiamo! Qui possiamo vedere il Bitcoin appena uscito dalla fusione Ovviamente l'oro è ancora grezzo quindi va ancora trattato e lucidato E qui invece finita la rodiatura e la lucidatura, incastonati diamanti VS Color G e ovviamente oro 18 carati Se no neanche lo facevo Grazie a tutti! Grazie a tutti.